Ancora buonasera a tutti, oggi presentiamo il libro di Giorgio Specioso, primo romanzo, Dinosauri, edito da Baldini e Castoldi, un titolo che già racchiude molto. Allora, partiamo dall'inizio, partiamo proprio dall'inizio di questa avventura. All'inizio, non lo so, veramente si perde così negli anni, il ritrosso del tempo, perché diciamo ovviamente come immagino chiunque altro abbia l'ambizione di scrivere un libro, tutto inizi con la lettura, quindi se vogliamo dire inizio proprio in senso letterale, ovviamente sono stato prima un lettore, prima così di provare a cementarmi, quindi una grande passione per la lettura, fin da bambino, da ragazzo, e poi di conseguenza insomma all'atere è iniziata un po' così a nascere anche così la voglia di scrivere. Quindi iniziata molto lontano, poi non so neanche io come sia nata la cosa, diciamo tutto è partito da un'immagine, un giorno era un ufficio, ma forse perché era il periodo degli attentati, quello alla metropolitana in Spagna e via dicendo, cioè c'era una forte tensione. Io all'epoca lavoravo a Roma e insomma andavo in metropolitana e ci si guardava tutti un po' così, un po' atterriti. E allora poi stando in ufficio, era una giornata forse primaverile, contro questo cielo azzurro mentre era al computer, così immaginai come se ci fosse un dinosauro e via dicendo. Forse non so per sublimare, cioè non so proiettato in questa immagine, forse la tensione così che si respirava all'epoca. E allora da qui poi diciamo si è aperta una porta, nel senso che poi da lì è iniziato così a venire fuori il mio immaginario, che avevo voglia di raccontare o anche che non avevo voglia di raccontare, ma è venuto su da solo. E piano piano si è strutturato intorno a una linea narrativa che poi insomma un po' alla volta ha originato questa cosa qui. Ecco, una porta che poi nella storia, se vogliamo trasporla, diventa il grande evento nebbioso. due grandi eventi nebbiosi che diciamo sono importanti per l'intera narrazione. Sì, allora non è Jurassic Park, ecco, questi dinosauri in realtà sono molto più evocati che poi presenti all'interno del romanzo. è una minaccia così alla quale il personaggio del libro ma anche gli abitanti della città che rischia l'invasione, cioè tutti fanno un po' finta di nulla perché in effetti questi romanzi si attende che arrivino, però non è che insomma, ecco, è Jurassic Park, è un filmone americano insomma. e sono insomma, ciascuno ci fa una proiezione di quale, sono un pericolo. Io forse all'epoca ci proiettavo questa tensione così comune degli attentati che erano negli Stati Uniti ma anche in Europa, che poi non sono terminati sfortunatamente. E c'è che invece ognuno ci può proiettare qualcosa. Questi grandi eventi nebbiosi di cui parlavi Martina sono, a un certo punto diciamo nel romanzo si immagina che il passato irrompa nel presente, ovvero a un certo punto si aprono delle finestre temporali e quindi cale una grande nebbia che è fisica ma metafisica anche perché appunto è afferente il tempo e quando poi la nebbia risale, questa nebbia impenetrabile risale e si scopre che si è aperta appunto una finestra temporale che ha importato alcune cose da un'epoca passata. Nel primo caso sono, la prima volta sono gli anni 70 e così insomma la città, il paese, tutti ci ritroviamo così sommersi da oggetti risalenti agli anni 70 che ormai dovrebbero essere nei discarichi o riciclati o via dicendo quindi completamente sommersi da flosce e palle da tennis bianchi per chi se li ricorda e borselli da uomo di quelle di pelle, macchine fuori modello, insomma fuori produzione e via così. Insomma la cosa è curiosa però ci si può vivere, insomma ci si può convivere perché insomma gli anni 70 quando invece torna la nebbia e si riporta via questi oggetti, questi manufatti e via così però apre un passaggio su un periodo precedente più pericoloso appunto i dinosauri importando questa minaccia preistorica e tutti però si relazionano come se nulla stesse accadendo insomma è molto diciamo così simbolico se vogliamo azzardare nel senso che tutti fanno finta di niente cioè forse il punto nevralgico del romanzo sta nel fatto che tutti vivono un grande rimosso per continuare a fare, io lo dico sempre, non so poi voi o gli altri però io sono un po' vigliacco nel senso quando c'è qualcosa che non va faccio finta di niente aspettando poi che la cosa si potesse risolvere da sola e insomma nel romanzo fanno tutti un po' così fanno finta di questa minaccia simbolica in fondo magari facendo finta di nulla possa risolversi da sé ma così non è e quindi tutti continuano le loro vite fatto di tentativi di carriera al lavoro di quotidianità, di rischi in genere, di rapporti familiari complessi figli che non parlano, insomma la vita di tutti insomma fingendo che l'approssimarsi della minaccia pre-istorica in realtà così si possa risolvere da solo da solo, poi vabbè a un certo punto il romanzo cambierà perché insomma non si può fare più finta di niente si cercherà una soluzione visto che hai introdotto questo tema delle relazioni di tutto il mondo che poi circonda nonostante tutto i personaggi che appaiono nel tuo romanzo io volevo introdurre il protagonista che è Beniamino che ha una famiglia un po' normale alla fine una famiglia che hanno parecchie persone nel mondo ha una moglie con la quale ha un rapporto abbastanza critico un figlio adolescente diciamo non sappiamo l'età del figlio ma immaginiamo dagli atteggiamenti che sia un adolescente o giù di lì un marito poco fedele un padre poco presente che cerca di ignorare ma allo stesso tempo non riesce a me è una cosa da lettrice che ha colpito molto è un aspetto che tu hai evidenziato molto bene in alcuni tratti anche in maniera molto divertente che è la sua incapacità di relazionarsi alle persone di socializzare cosa che però in alcuni momenti tenta di superare cerca di fare amicizia cerca di installare dei rapporti ma in realtà poi non sempre va a finire bene quindi non so se ci vuoi dire qualcosa un po' di più su questo personaggio che a me è piaciuto molto perché non lo so mi sembra molto coerente poi nonostante tutto diciamo che almeno nel mio caso per come la vedo io scrivere un romanzo è anche un'indagine su se stessi un po' e poi può essere catartico non catartico e via dicendo però la cosa che è capitata o almeno è capitata a me perché penso che ogni esperienza sia vada declinata al singolare insomma non è che c'è la regola ovviamente no però per quanto riguarda e capita a me io ho visto cose cioè non è che ho voluto mettere nel romanzo certe cose che mi appartengono però dopo in realtà leggendolo in filigrana rileggendo il romanzo scopro esserci invece sono lì e quindi vedo delle cose di me insomma che fanno un libro molto fanno del libro una cosa molto personale e sì c'è questa incapacità di relazionarsi agli altri io non lo so per me gli altri sono sempre stato un grande mistero fino insomma quando un po' insomma ho iniziato a prendere le misure insomma e sono uscito un po' da me stesso dalla testa e sono iniziato a guardare in giro bene o male ho capito come ci si relaziona però proprio a lungo gli altri sono stato ma anche io ero un mistero a me stesso ma gli altri era una cosa insomma incomprensibile l'altro era proprio non lo so uno sconosciuto ma come ragionano che fanno come ci si rapporta non hanno più palla idea e Beniamino insomma nonostante sia cresciuto lui invece è rimasto ancora un po' a quella fase lì gli altri sono veramente una cosa incomprensibile una scatola nera e così e quindi sì lui a volte tenta insomma di stare in rapporto lui vorrebbe insomma forse è segnato anche di una sorta di solitudine la sua vita tant'è che in un episodio insomma segue a casa come se fosse un po' una spy story segue a casa un collega un dirigente vorrebbe dei chiarimenti così si trova a bussare alla sua porta perché vuole vederci chiaro lui viene a aprire risponde gli offre un bicchiere di vino si mettono lì chiacchierano e lui è sorpreso e dice ma forse è questo alla fine il modo di avere dei rapporti amicizia forse bastava citofonare a casa di qualcuno insomma forse è tutto qui si stupisce lui stesso insomma di quanto sia semplice però sì ecco lui ma diciamo tutti i personaggi insomma sono segnati da una sorta di alienazione sono un po' tutti chiusi nel loro mondo sono introversi però non nel senso migliore del termine sono un grande fan degli introversi invece diciamo detesto gli estroversi però cioè no detesto no però ci sono anche degli estroversi che mi piacciono però diciamo a volte faccio il tifo per gli introversi però insomma qui sono tutti forse un po' troppo introversi non so come dire però infatti anche molti personaggi si chiamano soltanto magari con l'iniziale del nome cioè un tipo di scrittura che vuole proprio svuotare i personaggi potrebbe non ci sono descrizioni fisiche potrebbero essere chiunque un modello da questo punto di vista potrebbe essere lo scrittore americano Ellis che ovviamente è un maestro e lui fa tutta questa cosa sugli yuppi anni 80 negli Stati Uniti a New York allora vanno questi locali questi bar questi caffè questi ristoranti super fichi allora prenotiamo qua prenotiamo in là neanche più tu da lettore neanche più sai dove sono andati alla fine perché tanto è tutto uguale cioè un ristorante vale l'altro lui narra questa grande diciamo così voglia di uniformarsi che c'era soprattutto negli anni 80 no allora tutti i ristoranti sono uguali e non sai più chi sta parlando perché tanto tutti i personaggi sono uguali insomma è stato un punto di riferimento da questo punto di vista c'è un altro personaggio all'interno del libro che ha un'importanza diciamo di un certo tipo ed è una figura che a me è risultata un po' ambigua che è quella del terapeuta dello psicoterapeuta perché da una parte all'inizio quando introduci questo personaggio che è il protagonista proprio per combattere un po' questo suo infantilismo questa sua poca partecipazione alla vita familiare inizia questa terapia con questo psicoterapeuta e inizialmente quando lo introduci sembra quasi almeno questa è la mia impressione che venga un po' presa in giro questa figura del guru che sa tutto di tutti che ha sempre una spiegazione però poi andando avanti nel racconto dato che appunto questo personaggio riveste un ruolo importante nella storia alla fine invece diventa veramente un genitore un padre quindi non si è ben capito quello che pensi al riguardo se poi effettivamente queste figure sono allora provo a rispondere perché la domanda è bella e complessa e non credo risponderò fino in fondo però anche perché non c'è una vera risposta anche perché dovrei parlare a nome del personaggio ma non lo conosco così bene o comunque non lo frequento più da due anni ormai quando è uscito il libro quindi però allora diciamo che sì non è non ho un'idea precisa quindi e sono contento che si capisca che io non abbia un'idea precisa perché al contrario di altri tipi di scrittura non so il giornalismo saggistica e via dicendo il sale del romanzo della letteratura è l'ambiguità è il dire e non dire il sapere e non sapere è insomma è una piccola radice di mistero sulla quale si deve così deve crescere il romanzo quindi è un bene che i personaggi siano ambigui e non i romanzi che almeno personalmente non piacciono molto sono quelli con personaggi molto manichè no c'è il brutto il bello il cattivo la bella ragazza che verrà salvata da insomma le solite cose cioè un personaggio può essere detestabile in un momento e essere la persona migliore del mondo in un'altra occasione essere un guru o un disgraziato allora non lo so nel mio caso il personaggio è nevralgico è estremamente complesso diciamo che il protagonista Beniamino va in terapia per cercare così un rapporto di salvare il matrimonio quindi va in terapia di coppia cioè va in terapia da sé e poi la moglie lo raggiunge e inizierà una terapia di coppia e lui guarda con sentimenti ambivalenti allo psicoterapeuta perché la psicoterapia insomma chi l'ha fatta forse sa insomma è quasi una sottomissione intellettuale è quasi una violenza insomma salvifica ma alla quale bisogna così darsi molto e accettare di mettere in discussione delle parti di sé molto radicate che sono dei punti fermi e invece vengono distrutte è quasi un rapporto fra un sadico e un masochista però insomma in premio c'è insomma il famoso miglioramento di se stessi insomma che tutti agogniamo un po' con la palestra un po' con il biologico un po' con la psicoterapia un po' con Netflix non lo so e quindi finisco di dire è un personaggio così così si nutre odio e amore al quale sì alla fine fa anche una nel quale ci si può proiettare anche un sentimento genitoriale nel senso che nel senso in qualche modo ti fa rinascere ti rieduca e quindi quello che ha fatto il genitore viene messo in discussione e c'è qualcuno che prende il posto e viene rieducato e è tratto anche da un'esperienza personale molto molto forte dove non era Silvano ma era Silvana la psicoterapeuta che mi ha seguito e vabbè senza fare dire troppe cose perché io volevo leggere il libro però insomma c'è un episodio luttuoso che è capitato e forse anche il libro mi è servito anche per elaborare questa cosa qui ecco Dinosauri è dunque un libro se vogliamo sulla complessità dei rapporti più livelli familiari moglie marito padre figlio rapporti tra colleghi è quindi una metafora sicuramente della vita a cosa si arriva qual è poi il messaggio finale qual è la soluzione senza chiaramente anticipare la fine del romanzo il messaggio non lo so allora è uscito sempre un mio amico scrittore molto bravo Fabio Viola che dice sempre ma di cosa parlare il romanzo risponde ma il romanzo non parla che di se stesso e chiude lì insomma ovviamente è un po' criptica la cosa molto bella ma criptica il messaggio non lo so diciamo come autore del romanzo come scrittore di dinosauri non lo so neanche io come lettore forse posso azzardarmi a dire qualcosa e come semplice lettore posso dire che diciamo si indaga la speranza del cambiamento insomma io non apprezzo particolarmente l'espressione tu sei fatto così oppure quando ci si vuole giustificare qualcosa ma io sono fatto così come se fosse una scusa plausibile oppure chi nasce tondo non può morire quadrato come se non esistesse il libero arbitro la possibilità di cambiare viene pure vista come un'accusa ma sei cambiato e viva Dio è meglio sì sono cambiato non sei coerente beh chi se ne importa ad essere coerente ma perché uno dovrebbe essere coerente è bello il cambiamento allora ci deve essere una sorta di libero arbitrio per tutti cioè perché si nasce in un modo in un contesto sociale con i nostri genitori che ci educano ci hanno educato così e quindi prese da quella rotta andiamo dritti per sempre fino alla morte ma no voglio decidere io cosa essere cioè non credo che sia giusto che l'ambiente sociale i genitori mi plasmino e mi dovranno dare degli strumenti per interpretare il mondo però poi tocca a me farlo credo debba così uniformarmi al modello che mi è stato dato cioè il grande fallimento almeno personalmente per me è pensare di avere delle paure o dei modi d'essere che una volta visti e considerati sbagliati mi porta perso per sempre cioè io a 45 anni ho le stesse paure magari che ho a 12 anni cioè sono passati 30 anni cavoli voglio dire dovrò aver trovato il modo no oppure con un atteggiamento che so che è sbagliato in fondo però lo continuo a portare avanti così fino alla morte cioè questo in 80 anni non è riuscito a cambiare questo cavolo mi sembra assurdo e allora la tensione del romanzo e di Beniamino forse ma da lettore magari da scrittore non ti so rispondere cosa significa il libro però da lettore io ci vedo questo insomma la possibilità di un cambiamento di cambiare in qualche modo poi è un romanzo che insomma una cosa che mi lascia soddisfatto è che quando parlo a un qualche lettore che voglia parlarne tutti danno un'interpretazione diversa ma parla di questo no parla di quello no parla di quell'altro è comico no è tragico tutti hanno una visione diversa e questo diciamo mi ha fatto molto piacere nel senso che non c'è una dittatura dello scrittore che ti dico esattamente cosa vuole dire e via dicendo cioè c'è un tentativo di coinvolgimento apre al lettore apre all'intelligenza del lettore cioè io mi fido molto insomma e e quindi mi piace che ognuno ci possa trovare e proiettare qualcosa questo è secondo me però tutti hanno trovato cose molto diverse poi magari il letto oggi è così il letto fra dieci anni con altre paure o con un altro vissuto cambia ancora spero di aver risposto certo io vorrei fare diciamo una mia ultima osservazione perché abbiamo parlato di tanti temi molto importanti molto seri ma ci tengo a dire a chi ancora non ha letto il libro che il libro è estremamente divertente perché Beniamino è una persona comunque molto ironica tu sei anche uno scrittore molto anche come persona sei molto ironico quindi io ad esempio avendo avuto modo di conoscerti anche al di fuori avendo letto il libro ti vedo so che l'hai scritto tu e ad esempio a me è rimasta molto impressa la scena dell'uscita del nuovo organigramma dell'azienda che mi ha fatto pensare un po' a quella scena in Fantozzi quando scattano le cinque e tutti si proiettano fuori chi si cala dal balcone quindi il linguaggio secondo me il modo in cui tu hai raccontato questa storia fa in modo che questo libro sia molto piacevole da leggere molto scorrevole e ad esempio adesso l'ho riletto e l'ho letto in poche ore in realtà perché mi piace molto quindi è andato avanti in maniera molto scorrevole e quindi ci tenevo anche a dire questa cosa che il modo in cui tu racconti appunto eventi anche molto intimi molto importanti riesci a farlo in un modo leggero che credo che la leggerezza soprattutto in temi così seri sia fondamentale sì diciamo che diciamo come regola narrativa ma mia ovviamente chiunque può disattendere è che insomma se c'è una cosa da affrontare che ha un certo peso va trattata in modo leggero se c'è una cosa leggera magari va affrontata strutturandola un po' di più per dare una sorta di equilibrio fra il tipo di scrittura e e la narrazione che si vuole fare il tema affrontato insomma però ecco proprio in chiusura un'ultima battuta sui tuoi progetti futuri beh sto scrivendo un altro libro e vabbè andrò a prendere una birra adesso insomma nel brevissimo termine poi per quanto riguarda la letteratura insomma sto scrivendo un altro libro sono a buon punto mi piace molto e vedremo anche se insomma bisogna capire insomma dove andrà a finire però insomma sono sono molto contento vediamo che fine farà allora noi ti ringraziamo il libro è Dinosauri edito da Baldini e Castoldi ringrazio Enrica Di Giorgi l'associazione Magma che ha curato l'evento posso aggiungere come no tu ringrazio anche io Magma in particolare Graziano Lanzidei che insomma ci siamo conosciuti quando è uscito il libro e quando era lo stesso momento in cui si stava formando il circolo filò oggi Magma e quindi sono andati un po' siamo cresciuti mi ha fatto piacere grazie grazie a te Giorgio Giorgio allora Giorgio Specioso Dinosauri è un libro che noi lo diciamo sempre come Magma i libri si acquistano chi vuole acquistarli c'è lo spazio nella hall quindi andate alla hall e potete acquistare il libro Dinosauri altrimenti alla Feltrinelli si trova assolutamente grazie a te